Alcuna patata ragazzi, ben ritrovati nel nostro CiccioGamer89 Scusate Comunque ci andiamo a prendere questo legnatica Legna... come cazzo si dice? E andiamo ad esplorare di nuovo, così troviamo un'altra legna antica E che ne so, potenziamo le missioni Più monete dalle missioni, allora è buono Abbiamo di nuovo la fortezza Critter, però non andremo a giocare oggi Perché vi voglio dire che ho potenziato l'armeria a livello 3 Così posso potenziare le carte anche a livello 8 Andiamo subito in battaglia con il nostro Mega Critter Che Critter fenomenale raga Stiamo in battaglia Incredibilmente tra l'altro Vi devo dire che domani Domani Boh Questo video uscirà il 31 Io lo sto registrando il 20 Non lo so No, quale 20? 19 Il 19 lo sto registrando io Quindi per me ancora ci vuole tanto tempo Questo uscirà il 30 Si Questo video ragazzi uscirà il 30 Agosto Io lo sto registrando il Il 19 agosto Si Ok mi sto un po' impappinando Però Più o meno ci siamo Con quella data E vi volevo dire che il primo settembre Quindi tra due giorni Per voi Uscirà la nuova serie Minecraft Herobrine Stagione 2 Come la chiamo io S2 Aia questo mi fa male Si Mi ha sciolto completamente Mi piace stare il dottore Si La madonna Se fanno male Sti coglioni A coglione Deve morire Madonna santissima Che cazzo ha detto Senza sto dottore Già ero morto Comunque ci sono i critter Nemici Che non so se va bene A distruggerli Ah no Tanto prima o poi Li cacciano lo stesso I critter Quindi Io mi posso parare Dietro questa torretta E andare a distruggere Questo coglionazzo Qua Comunque La nuova serie Minecraft Herobrine Stagione 2 Sarà ancora Su Pocket Edition Purtroppo Ecco Perché sul computer Non ho trovato Le mod Giuste Cioè Non funzionava un cazzo Questo già ve l'ho detto Nel video di ieri Però se vi siete persi Il video di ieri Saprete Lo stesso Questa cosa Io la dirò In ogni video Così Se ve ne perdete Qualcuno La sapete Mi è scoppiata Stasetto davanti Mi sono pure Messo paura Questo lo sto ammazzata Prima Ancora non era morto La lotta tra carri armati Uno a livello 6 Con Tanta vita E uno a livello 7 Con poca vita Ha vinto Quello a livello 6 Con tanta vita Ovviamente Come sono morto io Ah Mi sa che No Forse nemiche E che roba è Boh Ma guarda che io Non so manco più Come sono morto Ce la facciamo Comunque Ok Ce l'avevo fatta Per fortuna 643 di XP Torniamo subito Dalla base Ci prendiamo La cassa esplosiva E siamo Oltre la metà De pietra 2 Sì Siamo quasi In arrivo A pietra 3 Allora Wow Andiamo Prossima battaglia Siamo Nella seconda Battaglia 5 minuti Precisi E inizia La seconda Battaglia Prendo subito Le reclute E andiamo Ad attaccare B Grande Attivo Le reclute E se fa male Sto bruciatore Raga Ho il critter Che mi ha sparato A me Madonna Le reclute Sono fenomenali Però Pure quelle nemiche Però ci stanno Dello stesso Dello stesso livello Passiamo leggermente Il volume Ok Scusate il silenzio Però Volevo andare Ad ammazzare A quello Ok Andiamo ad attaccare A No Sta Non mette La torretta Speriamo Che non è La torre Dei cecchini Oh Ecco il cannone Non sa Che è quel cannone Infatti Porca miseria Aia Proprio in testa Mi doveva Spawnare Questo Ah Se li distruggiamo In tempo Non riescono A spawnare I critter Alcuni Sono spawnati Però Io attacco Il nemico Mica Devo attaccare I critter Vabbè Che i critter Mi sparano Pure a me Però E che Sono Sti Bombe Qua E che Cazzo Sono Sti Bombe L'ho Che Mannaggia La miseria Per Non Dicere un'altra Cosa Per Non Dire Un'altra Cosa La Miseria Bestemmia Frangoppe Ricordatevelo Questo Mi sta A mirare A me Lo sapevo Io Madonna Se fa Male Ringraziamo Sto Dottore Che Senza Sto Dottore Già Ero Morto Da Parecchio Aia Deve morire Quello Ok 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 Non Conviene Ad andare Avanti Dove Ringrazio Il dottore Io Ok Morti Morti Distruggiamo Ste Recluse Madonna Se fanno Male Le Recluse Attenzione A questo Questo 4x4 Madonna Se fa Male Eh Vaffanculo Le prendo pure io Mo le Recluse No Volevo dire No Veramente Volevo dire Grande A quello Perché Sto cannone Ha perso Tutta la vita In un Secondo Madonna Il Giga Critter Raga Attivo pure io Le recluse Ma Dove Sto Sparare Ma Io Sono Tutto Ringoglionito Ebbè Tanto Ci pensano I cannoni Noi Pensiamo Al Giga Critter Che Si Sta Ritirando Aia Ma Sti Critter Raga Fanno Male Ok 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 Sono Morto Tantissimo Ma Già Ero Morto Pure Prima Che sta Fa Stare Da qua Un altro Bug Di Boom Beach Frontline Abbiamo Trovato E ce L'abbiamo Fatta Raga Bellissimo Sto Gioco Comunque Spero Che questo Video Vi sia Vi 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 Canale Noi Ci Vediamo Domani Con Un Prossimo Video E Dopodomani Con La Nuova Serie Primo Settembre Ricordatevelo Aspettiamo Che carico Vediamo Se abbiamo qualche Premio No Arrivederci Settembre